Musica Fallimento sui fondi europei, spesa annua poco più di 300 milioni, duro già chiuso del segretario regionale della UIL Santo Biondo. Si procede per progetti scollegati e finanziamenti a pioggia. Il meccanismo di gestione, denuncia è poco trasparente e poco condiviso. Assunti nelle scuole venete con diplomi falsi, 301 denunciati e anche alcuni calabresi, max inchiesta delle fiamme gialle di Treviso, il personale ATA era assunto negli istituti con titoli fasulli. Attenzione massima, macro e micro criminalità. Il nuovo questore di Catanzaro, Maurizio Agricola, con esperienze a Reggio Calabria, Balermo, Napoli e Modena, ha illustrato le linee guida della sua azione. Non si fermano gli arrivi, altri sbarchi a Roccella e Crotone. Due imbarcazioni con a bordo decine di migranti sono approdate sulle coste del Regino, 60 quelli individuati a seminare e condotti nel porto di Bagnara Calabra. A Crotone, invece, poco più di 200 persone sono sbarcate nelle ultime ore. A Schiavonea, il nuovo murales dei pescatori, 100 metri quadrati di dipinto nato dalla mano dell'artista Claudio Chiaravalloti, celebrano la vita, l'esperienza e i sogni dei pescatori del Borgo Marinaro. Nuovo appuntamento con l'altro Corriere Tg, ben ritrovati dalla redazione da Fabio Beni in casa. L'apertura lo avete sentito dai titoli del nostro sommario con la forte denuncia del segretario generale della Will Calabrese Santo Biondo. Per il sindacalista la gestione e l'impiego dei fondi europei in Calabria è un autentico fallimento e solleva dubbi sul blocco della rendicontazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo. Tutti i dettagli nel servizio. Solo il 38% di spesa è certificata, ovvero 900 milioni di euro su 2,3 miliardi complessivi. Per il segretario regionale della Will, Santo Biondo, quanto sta accadendo con le risorse dell'Unione Europea destinate alla Calabria è un autentico fallimento. L'allarme che lancia il sindacalista riguarda poi la capacità di impiego dei fondi, la media di spesa annua è di poco più di 300 milioni. Di questo passo non riusciremo a spendere tutti i soldi e dunque non risponderemo alle esigenze del mondo del lavoro, del sociale e della scuola. L'analisi dell'esponente della Will è lucida anche con riferimento alle cause. Non si spende perché le risorse sono parcellizzate in tantissimi progetti scollegati tra di loro e privi di omogeneità di investimento. In buona sostanza si prediligono i finanziamenti a pioggia, quando invece occorrerebbe concentrare gli interventi sui settori strategici. Il sindacalista denuncia anche lo scarso confronto con le parti sociali. Il meccanismo di gestione dei fondi è poco trasparente e poco condiviso. Sul piano 2014-2020 non sono stati aperti i cantieri relativi ai grandi investimenti, come la metropolitana di Rende o l'aerostazione di Lamezia. E le risorse, non si sa che fine abbiano fatto. La pagina della cronaca, incessanti continuano gli arrivi di barconi pieni di migranti sulle coste calabresi. L'attenzione è rivolta soprattutto alla crotonese e al regino. In poche ore sono sbarcati più di 300 migranti. Complessivamente è ovvio che si è subito attivata la macchina dei soccorsi, ma resta evidentemente un'emergenza a cui porre urgentemente rimedio. I porti di Roccella Ionica e Crotone anche oggi hanno accolto centinaia di immigrati. Due imbarcazioni con a bordo decine di migranti sono approdate sulle coste del Regino. La prima, soccorsa a largo da una motovedetta dalla Guardia Costiera, aveva a bordo poco più di 70 persone condotte nel porto di Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria. Poco meno di 60 migranti invece sono stati individuati a Seminara e condotti nel porto di Bagnara Calabra per poi essere trasferiti in una struttura messa a disposizione del comune. Nella città di Pitagora invece si sono registrati tre sbarchi che hanno visto giungere in totale 208 persone. Si tratta di 69 migranti di nazionalità siriana, afghana e iraniana, 95 migranti uomini di nazionalità egiziana, siriana e irachena ed infine i 44 migranti di nazionalità afghana. I soliti barconi carichi di speranza giunti al termine di un estenuante viaggio senza soste. I visi dei profughi solcati dalla fame negli occhi colmi di speranza la paura di chi non ha nessuna certezza sul futuro. E aumenta anche la preoccupazione per la crescita degli sbarchi che mettono a dura prova la macchina dell'accoglienza. Forze dell'ordine e volontari sono chiamati agli straordinari e anche i centri di accoglienza faticano a gestire il flusso continuo. Ancora la cronaca. Ci sono anche false attestazioni di attività scolastiche svolte in Calabria tra i titoli vantati dal personale assunto in Veneto nelle scuole. Quanto emerso dall'operazione 101 e l'ode condotta dalle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso nell'ambito della quale è stato accertato che presso diverse scuole dal 2018 al 2020 è stato assunto con contratto a tempo determinato personale scolastico ATA privo di validi titoli culturali e di servizio. Diversi i diplomi che sono stati scoperti totalmente falsi. Ancora la cronaca con una manifestazione assolutamente pacifica ma rumorosa soprattutto per il messaggio lanciato questa mattina davanti alla stazione centrale di La Mezzia Terme. I sindacati di polizia si dicono preoccupati. Sono quattro gli agenti della Polfer aggrediti proprio alla Mezzia Terme negli ultimi mesi o meglio nelle ultime due settimane. Un problema di sicurezza ma c'è dell'altro. La tavica carenza di organico. Un agente aggredito ogni tre ore. Un dato statistico inquietante se si pensa che il riferimento temporale è quello del 2020 in piena pandemia da Covid-19. A destare maggiori preoccupazioni sono però gli episodi avvenuti nelle ultime due settimane. Quattro agenti della Polfer della stazione di La Mezzia Terme aggrediti e dunque impossibilitati a svolgere il loro lavoro creando enormi disagi ai colleghi costretti a fare gli straordinari per un organico già in sofferenza. Una situazione tanto paradossale quanto insostenibile che ha spinto i sindacati del settore dal SIULP al COISP ad organizzare una manifestazione di solidarietà proprio davanti alla stazione centrale di La Mezzia Terme. Noi vogliamo questa manifestazione sostanzialmente a quale motivazione essenziale? Quella di cercare l'attenzione da parte degli ordini dipartimentali ma anche dal Ministro. Gli organi dipartimentali perché implementino gli organici tanto della Polfer e della Polizia di Frontiera ma io penso anche alla Polaria, penso al Commissariato, penso alla Stradale, penso a tutto il comprensorio lametino che da troppo tempo è stato abbandonato a se stesso. Un grido d'allarme dunque che parte dalla Calabria ma che riguarda tutto il territorio nazionale. È normale che riducendo ancora di più la coperta si riduce a sopprimere il turno notturno se in valutazione sopprimere anche il turno serale, con questi numeri è difficile garantire quel target di sicurezza che la cittadinanza aspetta da noi. Da una parte dunque i sindacati e le associazioni, dall'altra l'impegno della classe politica. Da rivedere quelli che sono gli strumenti in dotazione a tutte le forze dell'ordine per garantire l'incolumità pubblica e soprattutto l'incolumità degli operatori che giornalmente svolgono il proprio servizio per garantire la sicurezza dei cittadini. Adesso a Catanzaro per presentarvi il nuovo questore, Maurizio Agricola, vanta esperienze a Reggio Calabria e anche a Palermo, Napoli e Modena. In conferenza ha illustrato le linee guida della sua azione e ha parlato anche del rapporto della sinergia con il procuratore capo della procura di Catanzaro, Nicola Gratteri. I rapporti sono ottimi, il procuratore Gratteri abbiamo una grandissima intesa e siamo sicuri che andremo avanti in stretta collaborazione. Ripeto, ho trovato una grande squadra, una grande struttura investigativa che è in grado di affrontare le problematiche di questa provincia. I punti, come dicevo Canzi, di attenzione alla regione saranno sia al contesto della macro-criminalità ma anche della micro-criminalità. Abbiamo registrato le esigenze della cittadinanza per bene di avere un'attenzione importante su questo territorio e già abbiamo dato prova con l'operazione della settimana scorsa e credo che queste ne seguiranno altre perché abbiamo prestato massima attenzione anche a questo. Cioè la collaborazione, quando parlavo appunto di saper ascoltare e entrare in patia con le persone è anche questo cioè esortare la gente per bene a denunciare il più possibile perché da noi troverà una sponda immediata. Ma il commissariato di Canzaro Lido, diciamo che non si può parlare di una realtà sottoorganica perché ha 97 unità, quindi è un commissariato importante con un primo dirigente, tre funzionari, quindi ha una risorsa importante da poter sfruttare, da poter essere sfruttata per quel territorio. Canzaro Lido è un quartiere sezionale, ha le sue unità di pianta organica e è chiaro che tutti vorremmo qualcosa in più però insomma credo che al momento le risorse ci siano. Per un questore che arriva c'è ovviamente un questore che va via è Massimo Gambino che dopo tre anni alla guida della questura di Crotone lascia per trasferirsi a Taranto in Puglia. C'è ancora tanto da fare, dice ai nostri microfoni a sostituirlo sarà Marco Giambra, dirigente superiore della Polizia di Stato. Punta di amarezza perché dopo quasi tre anni e mezzo sono diventato il più longevo questore di questa provincia l'amarezza è che qualcosina si doveva completare mi riferisco per esempio al discorso della nuova questura ma non dipende da me ho detto prima c'è molta gioia perché lascio i miei colleghi in una situazione sicuramente migliore rispetto a quella che è la logistica rispetto a quelli che sono il numero del personale rispetto a quelli che sono i mezzi e questo sicuramente mi porta a pensare che chi verrà al mio posto andrà ancora meglio perché il collega che verrà sicuramente trova la strada in parte spianata ma dovrà anche lui lavorare come ho dovuto fare io ecco. Un breve spazio adesso anche ai numeri odierni del Covid 145 nuovi casi in un solo giorno in Calabria purtroppo si registra anche un decesso sale il tasso di positività al 2,79% c'è anche un nuovo ingresso nelle terapie intensive nel Regino invece si è registrato il numero più alto di infetti in un solo giorno ben 54 e adesso restiamo proprio a Reggio Calabria il Consiglio di Stato ha anticipato fissandola al prossimo 4 novembre la discussione nel merito per quanto riguarda il famoso bando per la raccolta dei rifiuti un bando come vi abbiamo raccontato nel corso dei nostri servizi bloccato dal Tar a seguito del ricorso presentato da una delle ditte da Reggio Calabria però arrivano rassicurazioni sull'efficienza e sulla presenza costante per le strade degli uomini e dei mezzi che ovviamente si dedicano alla raccolta dei rifiuti come avevamo anticipato già durante la conferenza stampa assieme al Sindaco la garanzia che ci sentiamo di dare oggi alla città è che il servizio non verrà interrotto nemmeno per un giorno di fatti a breve sarà emessa dal Sindaco una nuova ordinanza che proroga il servizio ad AVR per il tempo strettamente necessario fin quando non sarà definita appunto la controversia al Consiglio di Stato noi non vediamo l'ora di affidare il nuovo servizio ad una delle due società non ci interessa quale delle due hanno presentato entrambi dei progetti validi non vediamo l'ora di cominciare perché vogliamo apportare le modifiche previste dal bando sul servizio di raccolta che vedrà delle migliorie sia a livello di raccolta sia di gestione dei rifiuti ovvero non ci sarà più un porta a porta spinto su tutta la città ma ci sarà un sistema differenziato zona per zona e questo secondo noi ci permetterà di efficientare il servizio sia in termini di pulizia e decoro della città sia in termini di percentuali di raccolta differenziata Restiamo ancora a Reggio Calabria ma cambiamo decisamente argomento è stato presentato questa mattina nella sala dei Lampadari il concorso giornalistico Il Dono di Massimo un'iniziativa sostenuta dalla Comune Reggina dall'associazione Massimo Mazzetto dedicata alla memoria di un giovane cestista della viola basket morto tragicamente nel 1986 Non volevamo soltanto realizzare donare alla città un monumento che potesse sì parlare da solo però c'era la necessità di coinvolgere i ragazzi di coinvolgere i giovani affinché potessero realmente conoscere la figura di Massimo non soltanto come uomo di sport ma soprattutto per quanto riguarda i caratteri valoriali di questa persona Ed ecco che oggi siamo qui a supportare il Comitato Massimo Mazzetto nella proposta di questo concorso giornalistico rivolto a due scuole di Reggio per questa prima fase e due scuole di Padova che vedrà anche un corso di formazione in ambito giornalistico che perché no magari potrebbe nascere da qui qualche grande giornalista del futuro abbiamo pensato che non sarebbe stato sufficiente soltanto sostituire quell'opera con un'altra cosa che fra l'altro si sta realizzando ma bisogna pure fare qualcosa che coinvolgessi i giovani e li rendessi partecipi di una qualche iniziativa e volevamo che anche il ricordo di Massimo e il valore che lui ha trasferito potesse continuare soprattutto con i giovani e da qui è nato il concorso il dono di Massimo e prima di salutarci c'è ancora spazio per un ultimo servizio vi portiamo a Schiavonea dove la secolare tradizione della pesca si trasforma in arte Fieri ed orgogliosi determinati a rimanere e valorizzare un'antica tradizione a Schiavonea a Borgo Marinaro dell'ormai terza città della Calabria Corigliano Rossano la pesca è un vero e proprio stile di vita un'opportunità di lavoro e di reddito e nel Borgo Marinaro le vie, le facciate dei palazzi e i pezzi di muro accolgono murales e colori che celebrano questo tratto identitario della comunità l'ultima realizzazione è un nuovo murales di quasi 100 metri quadrati nato dalla mano dell'artista Claudio Chiaravalloti è il volto di un nonno di un uomo di mare un simbolo con la barca di carta carica di sogni rappresenta la vita vissuta del pescatore del pescatore che riflette l'essere stato bambino su questa barchetta di carta di vedere la sua vita realizzarsi attraverso l'attività di pesca come tantissimi uomini di Schiavonea che hanno dedicato un'intera vita al mondo della pesca e questo murales lo dedichiamo a loro a tutti quelli che non ci sono più a tutti quelli che oggi sono presenti e a tutti coloro i quali si affacceranno in futuro a portare avanti la nostra tradizione la nostra bella tradizione del mondo della pesca le intenzioni sono chiare non si tratta di un impegno e di una celebrazione fino a se stessa l'obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza della comunità di richiamare l'attenzione e magari arginare il triste fenomeno della migrazione il nostro obiettivo è quello di un intero coinvolgimento dell'intera società dell'intera comunità di Schiavonea per far sì che comunque possa crearsi possa nascere quel risveglio dentro ognuno di noi affinché possiamo come dire spezzare quel triste primato che i giovani vanno via e con questo è tutto l'appuntamento con l'informazione termina qui grazie ovviamente per la vostra cortese attenzione vi invito questa sera a non perdere alle 21 e alle 23 l'appuntamento con Calabria delle meraviglie il nostro straordinario viaggio tra le bellezze autentiche della regione restate con noi grazie a tutti Autore dei sovrapposti